L'ultimo arrivato in casa bianca azzurra, Mattia Boben, 28 anni, arrivi dalla Ternana, dalla Serie B alla Serie C per dare una mano al Pescara, provare questa risalita nel torneo cadetto. Sono contento di essere qua, la squadra è giovane, è molto tecnica, però dobbiamo migliorarsi soprattutto in fase difensiva, in riaggressione, quello che chiede il mister e speriamo che facciamo un buon campionato. Siamo la squadra che vuole gestire la palla con il possesso e dobbiamo prendere la palla subito quando la perdiamo, fare meglio il preventivo, quello che chiede il mister da noi e così dobbiamo imparare in riaggressione subito dopo la palla persa. Sei da poche ore a Pescara in Abruzzo, quali le primissime impressioni? È bella perché mi piace il mare, mi piace anche la mia moglie, sono contento. Arrivi in una piazza, quella di Pescara in cui c'è una tifoseria calda, una tifoseria che vuole spingere la squadra a provare a fare molto bene nel prossimo campionato. Sì, è una cosa molto importante penso perché abbiamo visto, quando ho visto il stadio pieno ti dà i brividi e speriamo che ci danno la mano tifosi, la gente perché è una cosa molto importante soprattutto in questo girone. Grazie. Grazie. Grazie.